La dieta plank è un regime alimentare che segue alcune regole generali per ottenere risultati di perdita di peso. 1. Bere almeno 3 litri di acqua al giorno è essenziale nella dieta plank. 2. Nella dieta plank è vietato l'uso di zucchero e i prodotti alimentari devono essere ben lavati prima di essere cucinati. Gli unici condimenti consentiti sono il succo di limone e le spezie. 3. La dieta plank si divide in quattro fasi. Fase di attacco, fase di sblocco, fase di mantenimento e fase di stabilizzazione. 4. La fase di attacco è la prima fase della dieta e dura due settimane. Durante questa fase si perde la maggior parte del peso. 5. Nella fase di sblocco si inizia a reintegrare alcuni alimenti nella dieta 6. Nella fase di mantenimento si cerca di seguire un regime alimentare abbastanza proteico, con una moderata reintroduzione di carboidrati e un basso apporto calorico 7. La fase di stabilizzazione è